Musica Buonasera e benvenuti al Tg Prato. Cominciamo dal trasporto pubblico perché la CAP, la società che si occupa del trasporto pubblico a Prato, ha presentato alla provincia un conto da quasi 3 milioni di euro e di questi 1 milione e 4 sono del comune di Prato. Il conto è diventato più salato a causa della pedonalizzazione di piazza delle carceri. Nel servizio il perché? 2 milioni e 800 mila euro è quanto richiesto da CAP, la società pratese che si occupa del trasporto pubblico del territorio, alla provincia per compensare il costo sostenuto per garantire il servizio da quando è scaduta la gara d'appalto nel 2010, al 31 dicembre 2013. Una richiesta che al momento non ha trovato accoglimento e su cui è in corso una trattativa che in caso di esito negativo si trasformerebbe in una causa legale, come sta avvenendo a Pisa, Pistoia, Livorno e Massa, mentre a Firenze e a Lucca la trattativa è andata a buon fine. Semplificando la cifra e la differenza tra il costo sostenuto da CAP per effettuare trasporto pubblico nel territorio provinciale e i ricavi che in sostanza sono rappresentati dai biglietti, il saldo è negativo. La somma compensativa è richiesta alla provincia che a sua volta si rivale sui comuni che la compongono. La quota parte che è stata calcolata in capo al comune di Prato si aggira intorno a 1 milione e 400 mila euro. A pesare sui conti pratesi che comunque non avrebbero avuto saldo positivo, è stata la chiusura di Piazza delle Carceri per la pedonalizzazione. Una scelta fatta dalla Giunta Cenni che ha necessariamente comportato l'eliminazione del passaggio degli autobus che proprio in Piazza delle Carceri avevano una delle fermate più frequentate. Vorrei precisare che non dipende tutto da Piazza delle Carceri, spiega il presidente di CAP Giuseppe Gori. La perdita c'era comunque. Certo, togliere gli autobus da questa zona ha aggravato la situazione. Le scelte sono in mano all'amministrazione comunale. Noi ci adeguiamo. Noi ci troviamo a operare con costi sempre maggiori per gasolio e personale, di contro con tagli continui alle risorse pubbliche e blocco delle tariffe. Cento studenti di architettura della facoltà di Ferrara sono arrivati oggi a Prato per studiare a fondo la Chinatown pratese. Un fiume di giovani studenti che in alcuni casi Stamani ha anche spaventato, tanto che alcuni cinesi hanno anche chiamato la polizia al servizio. Lezione sul campo della Chinatown pratese Stamani per 100 studenti di architettura dell'Università di Ferrara. Guaidati dai professori del Dipartimento di Architettura, tra cui il pratese Marcello Marchesini, gli studenti del terzo anno hanno invaso via Pistoiese e via Filzi per studiarne ogni angolo e capirne l'essenza, per poi poter elaborare idee e progetti specifici per riqualificare l'intera area del macrolotto zero. Di fronte a questo fiume di ragazzi armati di macchina fotografica e block notice, i tanti cinesi presenti sono rimasti un po' disorientati e interdetti. Qualcuno si è persino impaurito e ha chiamato la polizia, giunta sul posto con due volanti. Chiarito tutto, il sopralluogo è ripreso normalmente, ma a docenti e studenti è apparso chiaro quello che già avevano intuito varcando Porta Pistoiese. Chinatown è parte integrante, ma non integrata, della città. Tanti volti occidentali insospettiscono perché a dominare qui sono i tratti somatici orientali. Di Padova, si aspettava di trovare questa situazione? No, nel senso mi aspettavo una situazione un po' meno fabbriche, un po' meno degrado. Non vedo l'integrazione completa. Aver preso una parte della città, però non ci sono integrati effettivamente, l'hanno quasi resa propria. Di certo non mi aspettavo qualcosa di così totale, è veramente un quartiere grandissimo. Io vengo da Ravenna, comunque anche noi abbiamo una piccola zona di cinesi, ma riguarda soprattutto una piccola via con due ristoranti. Questo è proprio un pezzo di città che diventa loro interamente. Tra i 100 studenti presenti stamani ce ne sono almeno 20 stranieri. Tra di loro c'è anche uno studente cinese che ha scelto Ferrara per studiare architettura. E' il meno sorpreso del gruppo, ovviamente. Questa zona è un po' casino, no? Ma per me non c'è niente strano, io devo dire. Non ho male che io... In Cina è così? Qualche parte sì. Qualche parte è meglio, ma qualche parte è anche peggio. In questo semestre i ragazzi elaboreranno le loro idee trasformandone in progetti, su cui poi a gennaio sosterranno un esame. Subito dopo, a febbraio, tutti i lavori faranno parte di una mostra ospitata a Prato. Un punto di partenza per il comune che collabora con l'Ateneo di Ferrara. Si ha la possibilità di mettere 150 teste, che sono il numero degli studenti, tre laboratori di progettazione architettonica che lavorano su un'area che noi pratesi sappiamo essere centrale. La cronaca stava trasportando otto connazionali a Napoli, ma davanti ai poliziotti ha sostenuto che lo faceva a titolo gratuito. Questa è stata la giustificazione fornita agli agenti della stradale da un cittadino cinese che con una minibus Mercedes di nove posti, tutti occupati, stava accompagnando dei connazionali in gita turistica nella città partenopea. L'uomo fermato a Prato Est non conosceva per nome, però nessuno dei trasportati. Gli agenti hanno poi trovato sul mezzo anche alcuni biglietti da visita scritti in cinese che non lasciavano spazio a dubbi in merito all'attività abusiva di trasporto posta in essere. Oltre a tali biglietti pubblicitari, il conducente aveva con sé oltre 4 mila euro in contanti. L'autista è stato così sanzionato per il trasporto abusivo di passeggeri, mentre il veicolo è stato sottoposto a fermo per un massimo di otto mesi. E ora proseguiamo con la cronaca e parliamo del caso della persona che è stata sorpresa a spacciare all'interno di una sala giochi molto nota in città. E a casa, pensate, la droga era nascosta anche in un citofono. Claudio Vannaci. L'hanno sorpreso mentre spacciava cocaina all'interno della sala Prestige in via Stefano Vai, all'altezza della rotatoria dell'ex Pratiglia. Ma la vera sorpresa è saltata fuori dalla perquisizione della sua casa, dove la droga è stata trovata persino nascosta all'interno della cornetta del citofono. Un marocchino di 26 anni è stato arrestato ieri sera dagli agenti delle volanti della questura, diretti dal dirigente Celestino Frezza, durante un controllo predisposto dal questore nelle sale giochi della città. Tre equipaggi hanno effettuato un blitz all'interno del Prestige. I poliziotti hanno subito notato il giovane marocchino, una loro vecchia conoscenza. E' scattata così la perquisizione personale. Negli slip del giovane sono state trovate tre bustine di cocaina, oltre a 620 euro in contanti. I poliziotti si sono poi spostati nell'abitazione dell'uomo, nella vicina via Franklin. E qui è stato trovato il grosso dello stupefacente, in tutto oltre due etti e mezzo di cocaina. La droga era nascosta in vari punti della casa, persino dentro la cornetta del citofono. Sequestrate anche una bilancina di precisione e banconote in piccolo taglio, per un totale di 1590 euro. A proposito di droga, si è messo al volante nonostante avesse assunto sostanze stupefacenti. E proprio per questo in via di Reggiana, con la sua Mercedes, si è andato a sbattere violentamente contro una Jeep in sosta e là.